questa è di mz dai comunque siamo stati incisivi questa partita ciao però vai una cassa di protezione ok 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 la posizione è sulla mappa tattica se volete potete attaccarlo vieni a morte vieni a morte vieni a morte vieni a morte attenzione ultra 1 se spari agli operatori ti ritroverai una taglia sulla testa non c'è uno no infatti due attività in aumento vicino alla vostra state in guardia attività in aumento vicino alla vostra ottimo 102 35 4 5 6 6 6 6 7 9 9 8 8 8 9 10 10 10 Ah lo zai non c'è E no E apriamo quella cazzo di cosa Cosa? No è venuta senza Però se è a freddo gli puoi dare una felpa Eccoli là la rota fuori Ok Non ho capito brother Mi ho traccato le due Ok E' la vera E' la vera E' la vera C'è neanche No ho trovato almeno due piatti Sono sceso Non sta venendo verso di te No Ok Andiamo dai Oh 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 Sperciato E' lì Ma che c'è tu è E' lì E' fuori Ora entrerà dalla porta lì Manca uno all'appello però Dove vai Eh qua c'è Come è possibile Era invisibile Eh ma non risultava Eh aveva giubotto No Ciao 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 Grazie Ciao Ciao Prendi questo Visto che c'è col Bryson Ah si Guarda che c'è Il due piastre invisibile Qua Lo vedi Lo vedi Non ho capito Eh io non glielo ho dato Ci siamo? Ci muoviamo? Mh mh Ma La vi lascio così Scappato Sì Però visto che avevi il Bryson No 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 Se vuoi te lo do È indifferente Prato Ma sempre a me Rompono i coglioni Che non sparano mai a para Ma porco dove è L'hai fatto? E' già andato via Ah no Ok sono su Aprimi la porta Aprimi la porta Aprimi la porta C'è una bomba Vai vai Su 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 Qua dietro Qua 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 Bravo Occhio Porta putra cazzo Adesso arrivo Qua Fammi rimettere le piazze Ok Bravo Bravo C'è la tempo Marco colpi per fuggire a canna Finché a tre piazze È un cazzo Tutto fa fuori Gli animati Guarda che mi sa che ce l'ha Il tipo lì Qua c'è un altro Te lo prendo io Adesso te lo porto Chi ha tre piastre Un cazzo Il tetto è l'hotel Come va ragazzi Pulito Arriva gente No C'è la squadra di caccia Tieni 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 Mau Dietro di te La prendi La prendi Ah ok Vabbè Tieni Sì Sì Ce l'aveva Eh Figa Tre piastre È una roba Trento ultima Va bene Tetto dell'hotel L'hai detto No è pulito È pulito Però Forse Ma chi è che Chi cazzo tira le granate Eh Po Ma mi c'entrano sempre Ora la minaccia non beva nessuno neanche contratti caccia 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 nessuno siamo al castello è l'unica ok ok wow wow la squadra di caccia ok il robottino è finito ok il robottino è finito ok 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 parco 2 invincibile è morto è morto è morto è morto ok 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 hai preso tu quello di comunicazione si volevo oh do un po' eh ecco dio dai ok 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 dov'è mao prenditi su avvio avanzato para avivare ok aspettante ingrionare Quello è il trappoglio che stai usando? Sì Perché? È rapido Eh sì, devi mettergli l'otturatore veloce Eccola lì No, è qua! Io! Sì, sto attenta alla televisione Ok 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 Ok, questi qua che abbiamo fatto non si sono accorti di niente Ok 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 Oh, cazzo, perché mi devo farla che mi sto cucire? Sono una sana Ma te li do io, sono 68.000k, cara Oh, cazzo, cazzo La roba più leggera che c'è, il riso come è fatto, mi dicevi? Ok 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 se la distanza avanzano rapidamente, muovitemi verso un punto di distruzione Che tu bella stona, ne manas crei Oh, non c'è il capo. No. Eh... Va bene. Eh sì. Io non c'ho neanche la maschera, vedete? Chi è che ha poche armi di contrabbando? Cosa vuoi, dimmi cosa vuoi, un assalto, vuoi un KV o un Bryson, cosa vuoi? Corte a V, corte a V. Non può, vabbè. Ah, devi farti il... il Lockwood. Eh... Mau, prenditi questo, tu ad armi sei a posto. Armi di contrabbando come sei messo, para. Guarda che c'ho questo che è bello. Ma, para, para. Ho questo che è bello. Eh... Forza. Ok, andiamo. Minchia, sono senza maschera anche qua. Ok. Signori, vi saluto. E se ci siete, ci vediamo dopo. Eh? Speriamo. Eh... Prendi... Vabbè, ok. No, dopo. Sono le sette meno un quarti e adesso devo andare a mangiare da... Qua da Arturo. Boh, qua vicino. E ora, madonna, ma dove li ho fatti questi qua? Cinque ne ho fatti, come è possibile? Boh, vabbè. Ah, perché siamo andati anche nell'altra... Va bene. Ciao, Aglio. Dai. Ciao. Ciao, ciao.